Il Regno Unito manterrà l'allentamento di Natale per permettere ai britannici di incontrare i parenti durante le feste. Tutte e quattro le nazioni del Regno hanno deciso di procedere all'unanimità con l'allentamento delle misure e così si potranno incontrare fino a tre famiglie in casa, ma non potranno frequentare i ristoranti laddove sono ancora aperti. La finestra di Natale per vedere i parenti inizierà il 23 dicembre, per finire il 27, e le persone potranno viaggiare tra le diverse aree per vedersi all'aperto nei luoghi di culto, oltre che in casa. Intanto le autorità britanniche hanno fatto sapere di aver somministrato il vaccino a più di 137.000 persone nella prima settimana. Secondo il ministro del vaccino, designato per l'occasione, Nadim Zawi, si tratta di un'ottima partenza. Se anche tu vuoi fare pubblicità su TeleLondra, scrivici a info.telelondra.uk o contattaci al numero 07 43 21 99 430.